In una delle estati più torride degli ultimi anni, migliaia di cittadini pescaresi e dell'area metropolitana hanno dovuto fare i conti con l'assenza di acqua. Dall'altra parte la beffa con i costi in bolletta che aumentano sempre di più. Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ha portato il caso in regione per capire, proprio dall'ente sovraordinato, quali siano state le azioni per cercare di sanare le reti con la brodo. Vergognoso che nella regione dei parchi, nella regione verde, nella regione delle sorgenti, abbia una carenza idrica senza precedenti. Ci sono racconti, famiglie, che da 90 giorni stanno senza un goccio d'acqua, con disabili minori in piena crisi pandemica. Chi avrebbe dovuto fare cosa? Allora, ci sono enti. Le società di gestione e servizio idrico integrato, in questo contesto l'ACA, non sono società enti terzi, società astratte. Sono società interamente pubbliche, i cui soci sono i comuni e quindi i sindaci approvano i bilanci, quindi approvano l'operato dell'azienda, votano i vertici e poi ce li sentiamo puntare il dito contro la società, come se puntassero il dito contro loro stessi. Questa è una cosa che mi fa rabbia, la dobbiamo smettere. I cittadini devono sapere. L'ACA non è una società terza, sono i sindaci, i comuni che sono soci, azionisti di queste società. E quindi ci devono dire che cosa si sta facendo. Con la tariffa, la tariffa che aumenta ogni anno, i cittadini pagano a fronte di un non servizio, perché non si fanno le opere di riefficientamento delle reti? Punto di domanda. Ho portato in caso il Consiglio regionale, perché la Regione tramite l'ERSI governa, vigila e controlla il servizio idrico integrato. E' l'ERSI, quindi la Regione, ha il dovere di attrarre finanziamenti, finanziamenti nazionali, finanziamenti europei per rifare le reti. Quindi ho chiesto al Presidente Marsiglio di venire in Aurea a riferire se hanno una mappatura di tutte le reti, qual è la pressione, quali sono le perdite, quali sono gli finanziamenti, i contributi che ci sono stati. So che addirittura nel Masterpal ci sono stati oltre 100 milioni di euro per rifare le reti e cosa si è fatto con questi soldi. Se sono stati cantierati i lavori, se sono partiti, che cosa si sta facendo? Io mi auguro che risponderà breve. Perdite idriche che arrivano anche al 70% dell'acqua immessa nei tubi e cittadini che sono esasperati dalle carenze idriche e dalla necessità di doversi alzare anche la notte per poter sbrigare le faccende di casa. Da quanto tempo ha problemi? I primi di giugno noi non abbiamo acqua e ce l'ho soltanto la notte, quindi io la notte mi devo alzare per farmi la doccia, per fare i piatti, per fare tutte le mansioni domestiche. Questa situazione è insostenibile e abbiamo bacinelle in casa, bottiglie, cioè dobbiamo alzarci la notte per fare le mansioni di casa, gli ho detto tutto. Grazie. Grazie. Grazie.